Questa ricetta ha bisogno di un po' più di tempo, ma ne vale assolutamente la pena! Per prima cosa prepariamo un trito con tre foglie di menta, due foglie di basilico, mezzo spicchio d'aglio schiacciato, mezzo cucchiaino di timo e un cucchiaio d'olio evo. In una ciotola versiamo i pomodorini e insaporiamoli bene con il trito. Una volta fatto, mettiamoli in una teglia e lasciamoli cuocere in forno statico preriscaldato a 140 gradi per circa due ore. Quando i pomodorini saranno cotti, sbollentiamo per due minuti 100 g di fave, le scoliamo e le lasciamo raffreddare. Una volta fredde, le priviamo del sottile strato di pelle che le ricopre. Cuociamo la pasta e nel frattempo frulliamo le fave con mezzo spicchio d'aglio, 15 g di pecorino, 3 foglie di menta, un pizzico di sale, un pizzico di pepe, due cucchiai d'olio e un po' di acqua di cottura. Frulliamo fino ad ottenere una crema omogenea. Quando la pasta sarà cotta, condiamola con la crema di fave, i pomodorini arrosto e... Buon appetito!